L'operazione scatta all'alba e a pochi giorni dagli sgomberi di San Basilio e di Ostia che hanno recuperato appartamenti occupati da persone legate secondo gli investigatori alla criminalità organizzata. Questa volta l'obiettivo è la Torre 30 in via Santa Rita da Cascia a Torbella Monaca. Qui poche settimane fa una ragazza è precipitata dal tredicesimo piano. Secondo quanto hanno ricostruito gli investigatori poco prima, aveva acquistato droga in una delle piazze di spaccio che si trovano proprio dietro il palazzo in via Scozza. Quando gli agenti della polizia locale di Roma, della polizia di Stato e dei carabinieri della compagnia di Frascati irrompono nei quattro appartamenti sgomberati all'alba, solo uno era già stato liberato. All'interno sono rimasti immobili. Negli altri tre trovano una famiglia di origine rumena, in un caso famiglie italiane, negli altri con loro anche dei minori. Nessuno oppone resistenza allo sgombero. Un'operazione che rientra in un piano più ampio della prefettura per il recupero delle unità abitative di edilizia popolare. Si sta aprendo una nuova stagione all'insegna dei diritti e della legalità. Esulta il presidente della regione Nicola Zingaretti e il presidente del sesto municipio Nicola Franco. Riconosce alla regione e ad Ater di essersi attivati per avviare con prontezza il percorso di verifiche e sgomberi e invoca la stessa sollecitudine anche da parte del comune per gli immobili di sua proprietà.